Lui è un mentore, avevo bisogno di una persona che mi indirizzasse, è meglio di lui, non c'è nessuno. Una persona che è riuscita a far diventare il proprio locale un'eccellenza a livello nazionale, il punto di riferimento del divertimento a Rimini. Un super imprenditore. Lo ammiro molto, sia come uomo che come imprenditore. Sta cambiando la vita a molti ristoratori, magari lo avessi conosciuto prima. Giuliano ha la possibilità di trasferire la sua esperienza, essendo titolare di un locale, e non, come magari tanti fanno, che sono all'esterno della ristorazione, fanno degli esempi che però non sono applicabili a questo mondo, in sostanza. Se non ci fosse stato lui, durante il Covid, molto probabilmente avrei chiuso, avrei mollato. E Giuliano è capitato proprio nel mio momento peggiore. Replicando tutto quello che ci ha insegnato, abbiamo raggiunto dei risultati che sono impensabili. Lui trasmette che vuole insegnarti, non lo fa solo perché deve venderti. L'ansietti! Siete dei guerrieri! Avete sfidato tutto per essere qui oggi. Non vuoi bene al tuo locale quando sei lì dentro 20 ore al giorno, eh? Vuoi bene al tuo locale quando stai facendo in modo che lui sia automatico, che lui sia autosufficiente. Non è la fatica che vi porta a dire, oh cazzo, vado a dormire tranquillo. Ma sono i risultati, sono quelli che possono dirvi, oh cazzo, vado a tranquillo. Non deve servire a me per, io col Bounty sono più che soddisfatto di quello che a fine anno mi può garantire. Però qui invece stiamo creando qualcosa di diverso. Imprenditori che condividono strategie di successo. Perché devo scrivere questo cazzo di nome su un'agenda di carta che poi va in cantina, che poi tra tre anni non la posso usare? Eppure è la cosa più importante che ho, il contatto del mio cliente. Grazie. Grazie. Chi chiami? Lanzetti. La ristorazione è in mano a chi sa gestire bene i propri contatti. Stiamo costruendo la storia, dietro di noi non c'è niente. Grazie.